Buongiorno e benvenuti all'edicola di oggi 10 febbraio 2023. Iniziamo la nostra rassegna con la lettura dei nostri quotidiani e come sempre partiamo dal Corriere della Sera. In prima pagina Meloni e Gelo con Macron. Scintille dopo l'incontro dell'Eliseo con il leader ucraino e Schultz. Mina l'unità europea. PD e Movimento 5 Stelle, attacco al governo. Colloquio tra la Premier e Zelesky, viaggio a Kiev e via libera all'invio dei jet britannici. Tensione tra Roma e Parigi. La Premier, Giorgia Meloni, ha criticato il trilaterale all'Eliseo che ha visto protagonisti il presidente francese Macron, il cancelliere Schultz e il presidente ucraino Zelesky. Così si mina l'unità europea, ha commentato la Premier italiana, che ha poi avuto un colloquio con il leader ucraino, nel quale è stato ribadito il pieno sostegno a Kiev. Meloni andrà nella capitale ucraina. Via libera all'invio di jets inglesi. Primo piano un malumore condiviso, Bruxelles, il retroscena. L'intervista contro Tajani, Parigi, gaff diplomatica. Di spalla, tensioni e trappole. Massimo Franco scrive Parlare d'Italia isolata e umiliata per l'esclusione dal vertice di Francia e Germania con il presidente ucraino Zelesky è fin troppo scontato. Forse è un po' semplicistico anche accreditare una presunta marginalità del nostro paese in Europa, evocando le polemiche delle settimane scorse tra Roma e Parigi. O il fatto che il governo sia guidato dalla destra. Certo stupisce una lite sul palcoscenico continentale con una nazione con la quale è stato sottoscritto da pochi mesi un patto di collaborazione. È a poche ore dall'apertura di un Consiglio europeo, ma le responsabilità sono ben distribuite. Le tensioni vanno sommate senza però essere scelte in maniera strumentale. La verità è che, tranne rare parentesi come quella del governo di Mario Draghi, il nostro paese ha sempre cercato di inserirsi come terzo interlocutore nell'asse franco-tedesco. Ma raramente ci è riuscito. Lo stesso ex presidente della BCE, quando era a Palazzo Chigi, in qualche occasione ha faticato a farsi ascoltare. E i dispetti dei cugini francesi non sono mai mancati. Se mai c'è da chiedersi se la reazione puntuta di Giorgia Meloni, che ha ditato il rischio di una spaccatura del fronte antirusso in Europa, sia stata la più meditata. In pancia, Sanremo e polemiche, il centrodestra all'Ariston, si parli anche di foibe. Egonu, le accuse e le emozioni, in Italia c'è ancora razzismo. L'Italia è ancora un paese razzista che però sta migliorando. L'intervento denuncia della campionessa di pallavolo, Paola Egonu, a Sanremo. Ancora i soccorsi estratti vivi dopo 80 ore. Una madre bacia la mano della figlia morta in una foto. L'orrore del sisma in Turchia e Siria, oltre 20.000 morti. Un'ecatombe, oltre 20.000 le vittime del terremoto in Siria e Turchia. Il numero purtroppo è destinato a salire. E' un miracolo donna estratta viva dopo oltre 80 ore. Il caso, respinta l'istanza del legale Nordio, niente revoca cospito, resta al 41 bis. Il ministro Carlo Nordio ha respinto la richiesta di revoca nalarchico Alfredo Cospito, resta al 41 bis. Il piano, gli obiettivi per il 2030, Unione Europea, sì alle case green, ma i partiti si dividono. Obiettivo è la neutralità energetica dell'Unione Europea. Per questo dall'Europa arriva il sì alle case green con zero emissioni per il 2030. I timori in Italia per i troppi oneri e scontro. Adesso, come sempre, passiamo alla lettura della Repubblica Unione Europea, il giorno nero di Meloni. La premier isolata, Macron e Schutz, rivendicano il loro ruolo guida nel sostegno a Kiev. E' l'iniziativa di incontrare da soli il presidente ucraino. L'Italia in minoranza sugli aiuti di Stato e sui migranti. Scontro sulla decisione di prorogare in un anno le concessioni balneari. Zeleschi al summit per ottenere i jet, mezzola ai leader. Considerate l'invito. Leggiamo. Migranti, gare per le concessioni balneari, aiuti di Stato e la questione Zeleschi. Su ognuno di questi punti, Giorgia Meloni torna da Bruxelles, isolata da Macron e Schutz. Come se l'Italia fosse precipitata nella Serie B dell'Europa che conta. Col presidente ucraino, il bilaterale è saltato e si è ridotto ad un incontro di pochi minuti. La giornata di Meloni a Bruxelles era iniziata con un attacco a Macron e si è chiusa con la sponda della Premier ai paesi di Visegrad, l'anima sovranista dell'Europa. Ma ora qualsiasi aiuto e qualsiasi deroga dall'Unione Europea diventano più complicati. Il commento, una sfida diplomatica. L'isolamento politico e persino fisico che ha dovuto sperimentare Giorgia Meloni ieri a Bruxelles non è una notizia di cui rallegrarsi. Riporta i tempi del vertice del 2021, quello delle risatine di Sarkozy e Merkel su Berlusconi nella conferenza stampa finale. L'analisi, la crisi fa male anche all'Europa. Quando polemizzano il presidente francese e la Premier italiana non fanno un favore a se stessi, ne lo fanno all'Unione Europea. Giorgia Meloni poteva evitare di dare un peso particolare alla visita di Zelensky a Parigi. Giustizia Nordio gela cospito, sempre pericoloso e non revoca il 41 bis. Quei sindaci di paese sotto inchiesta in attesa di verità. E adesso focus sul Sanremo nel festival che mette in fila i diritti Egonu schiaccia sul razzismo. La terza serata di Sanremo è stata lunghissima e ha visto come protagonista Paola Egonu e Imaneskin. L'Italia è un paese razzista, ma sta migliorando, aveva detto in mattinata la palavolista. La polemica. Se la vita prevale sulla politica. Mercoledì nel quadro politico nazionale il conflitto a più bruciante intensità ideologica era quello che opponeva Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, ad Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus. Turchia-Siria, dramma, terremoto, le vittime accertate sono più di 20.000. Il racconto, un silenzio che non vuole la pace. L'errore e l'illusione molto spesso hanno regnato nelle menti dei governanti e dei governati. Ci fu un decennio di sonambulismo collettivo dal 1930 al 1940 e ci fu l'impossibilità di credere all'occupazione della Francia e a una seconda guerra mondiale. Adesso passiamo alla lettura della stampa. L'Europa di Zelensky isola Meloni. La Premier accusa Macron, Enesimo, Sgarbo, La Replica, Germania e Francia hanno un ruolo speciale. Torna alta la tensione tra Italia e Francia, botte e risposta a distanza tra Meloni, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron sul summit all'Iseo con il cancelliere tedesco Schultz e il presidente ucraino Zelensky, definito inopportuno dalla Premier italiana. A Bruxelles solo un colloquio Meloni-Zelesky dopo la notizia che il bilaterale in agenda era saltato. Il caso, il Colle chiede il rispetto del patto del Quirinale. Non siamo gli interlocutori giusti e la risposta standard del Colle è quando volano scintille a livello internazionale e si chiede lassù che aria tira. Il retroscena e adesso Giorgia cerca la rivincita sui migranti. Ha le braccia concerte, gli occhi fissi altrove per evitare di incrociare quelli di lui, le dita che porta nervosamente alla bocca e poca voglia di sorridere. Il commento, ma la politica estera non si fa con i lamenti. Lucio Caracciolo scrive La prima cosa da fare quando si partecipa ad una competizione è sapere da dove si parte, avere la misura di se stessi. Quando poi la gara è fra noi europei epigoni di nazioni che fino a un secolo fa dettavano legge nel mondo e che non hanno ancora finito di elaborare il lutto, l'operazione verità è assai dolorosa ma necessaria. E la realtà è che in ambito europeo l'Italia non è allo stesso livello della Francia e della Germania. Quando Giorgia Meloni bolla inopportuno l'invito di Macron per ricevere Zelensky con Schultz all'Eliseo prima del Consiglio europeo cui per la prima volta il leader ucraino ha direttamente partecipato dimostra di non considerare i rapporti di forza. L'unica potenza nucleare e membro permanente del Consiglio di Sicurezza nell'Unione europea insieme alla maggiore economia continentale hanno da tempo formalizzato il loro primato in ambito comunitario mascherando le fondamentali differenze di culture e di interessi che le dividono. Il racconto se avessi ereditato il busto del duce. Ancora in pancia una fotonotizia parole Ngonu e i diritti sul palco di Sanremo. L'Italia razzista intervista a Rocella sull'aborto Fedez ha mentito. Di spalla focus le idee perché la Costituzione è l'unico baluardo contro la regressione delle democrazie. Come si difende una Costituzione democratica? Questa domanda è diventata impellente negli ultimi vent'anni. La giustizia la linea dura di Nordio Cospito resta al 41 bis Alfredo Cospito resta al 41 bis per il terrorista anarchico in sciopero dalla fame da 114 giorni non cambia il regime carcerario. Torino quel bacio ai murazzi dopo l'omicidio sfiorato. Due ragazzi si baciano lui ha i capelli spazzola il cappuccio della giacca vento gli copre il collo con un braccio avvolge teneramente la testa di lei. E adesso passiamo al sole 24 ore il quotidiano di Confindustria Smart Working arriva il rinvio al 30 giugno ma divide privati e pa. Industria 160 miliardi di ricavi in più Made in Italy nei primi 11 mesi del 2022 il fatturato ha valori correnti e aumentato di quasi il 16% nella ripresa del dopo Covid l'Italia meglio di Francia Germania e Spagna leggiamo a un soffio dai livelli pre-Covid l'industria italiana rispetto a Francia Germania e Spagna nei primi 11 mesi del 2022 è quella con la performance migliore con le performance migliori secondo lo studio Premetea intesa San Paolo a valori correnti i ricavi del Made in Italy crescono di 164 miliardi rispetto ai primi 11 mesi del 2021 addirittura più 15,9% numeri comunque positivi anche se valutati in termini reali più 2,6% boom per elettronica moda e farmaceutica soffrono metallurgica ed elettrodomestici corre l'export bene anche i consumi domestici il rapporto sa c'è rischio geopolitico sull'export italiano Bonomi la strada non è quella degli aiuti di Stato ma la risposta comune dell'Unione Europea la sfida di USA e Cina Carlo Bonomi presidente di Confindustria ha incontrato a Bruxelles i vertici europei e Bonomi ha chiesto stimoli per Industria 5.0 mentre ha formulato un giudizio negativo sulla proposta europea sugli aiuti di Stato avvantaggia i paesi che hanno più spazio fiscale la Corte Unione Europea salva le banche mutui rimborsi parziali per chi esce più BTP Italia per le famiglie e adesso passiamo alla stampa locale e partiamo subito con la lettura della provincia di Lecco Giorgetti lancia Fontana Conte attacca la Lega la corsa dei Lecchesi gli ultimi appelli al voto la piccola cambia volto ha giudicato l'appalto ieri l'assegnazione ancora provvissoria di lavori per 4 milioni andiamo all'edicola del sud giovane pestato dal branco ho perso occhio e lavoro la violenza davanti ai giudici di Bari il racconto shock di un ragazzo senegalese picchiato da un di 19enne davanti ai giudici non ha avuto esitazioni l'aggressione subita mesi fa nel parco Rossini gli ha fatto perdere occhio e lavoro ecco il racconto shock di un senegalese la tragedia di Turi suicida il padre che aveva ferito il figlio il degrado dilagante l'ex mensa RFI va in fiamme salvi i clochard il sistema all'erario illegalità e refrenabile funzionario regionale e costruttore ai domiciliari le accuse di corruzione è falso una storia di riscatto il titolo alla cittadina brindisina da roccaforte dell'escu a capitale della cultura così erinata mesagne e ancora la movida in città riapre la discoteca della baribene domenica Icarria a Putignano sale l'attesa per il carnevale passiamo alla provincia Giancarlo Giorgetti la riforma fiscale meno tasse sul lavoro Chiara Braga Sanità e Trasporti bisogna voltare pagina Maristella Gelmini siamo solo noi la giusta alternativa scuola impossibile cambiare e i ragazzi così si perdono come abbondanti abbandonati centinaia di studenti che hanno sbagliato la scelta leggiamo impossibile cambiare la scuola in corso d'anno così centinaia di studenti comaschi rischiano di perdersi per strada le famiglie sollevano un tema noto in particolare al primo anno delle superiori un problema che si è aggravato dalla pandemia in poi i ragazzi che si sono resi conto di aver sbagliato scuola in difficoltà già dopo pochi mesi non riescono a cambiare indirizzo verso gli istituti più affini ai loro talenti mio figlio dopo la terza media ha scelto il classico racconta una mamma comasca purtroppo ci siamo resi conto verso la fine dell'anno di aver sbagliato e del resto si cresce sbagliando da fermi abbiamo cercato allora un liceo delle scienze umane impossibile abbiamo quindi tentato con il liceo artistico niente da fare ormai è tardi resta dov'è adesso passiamo all'eco di Bergamo frode milionaria nell'edilizia sette sono indagati frodi a ripetizione per agginare il fischio e la previdenza una scia di reati architettati nell'arco di 12 anni con un sistema di autoreciclaggio di denaro all'estero queste le accuse per sette bergamaschi indagati e otto di misure cautelari per il GIP milanese Stefania Pepe avevano messo in piedi un sistema di frode nel settore dell'edilizia finalizzato a dissimulare somministrazioni irregolari di mano d'opera attraverso contratti di appalto subappalto sistematicamente fittizi e una sistematica evasione degli oneri fiscali e previdenziali dei lavoratori in cima alla piramide dell'organizzazione capace di fatturare oltre un milione di euro a settimana in compensazione di crediti ci sarebbe stato un impreditore edile di Palosco è stato disposto un sequestro preventivo di 163 milioni di euro gli investigatori hanno sequestrato oltre 250 mila euro in contanti oltre a borse milioni di euro monili di euro e orologi di lusso sisma oltre 20 mila morti il racconto dei bergamaschi Monsignor Colgaro qui manca tutto studentesta 24enne un minuto di terrore la provincia di Sondrio lega tumori si cambia uno scosso nel vertice regionali ultimi appelli le promesse e le sfide Menegola ha i dossier aperti c'è tanto da fare insieme il presidente della provincia sono un democristiano tanti come me adesso passiamo al resto del Carlino Nordio conferma il 41 bis per cospito il guardia sigilli nega la revoca istiga alla violenza dal carcere riprendono le manifestazioni la difesa fa ricorso ha perso 50 chili regionali la sfida lombardia interviste a fontana e moratti conte il pd vediamo dopo le primarie in pancia ci sono anch'io scintille per il vertice tra macron schuzzi e zeleschi meloni incontra il leader ucraino dopo le polemiche passiamo alla gazzetta del mezzogiorno sud batti un colpo oggi l'iniziativa dell'università di bari sul rischio autonomia cgl puglia lancia la mobilitazione ma i giovani fuggono mezzo milioni in dieci anni italia esclusa alta tensione tra meloni macron a bruxelles malapremia incontra zeleschi l'erario prese un'altra tangente in auto a bari appalti in regione due arresti adesso passiamo al mattino mezzogiorno la fuga dei laureati al nord campagna in dieci anni oltre 40.000 partenze scontro sull'autonomia tra salvini e de luca italia francia alta tensione zeleschi a cena da macron con schutz meloni esclusa invito inopportuno si mina l'unione europea il leader di kiev a bruxelles l'europa e casa nostra ribadito il sostegno di roma alla ucraina il messaggero zeleschi l'invito a parigi si mina l'unità dell'unione europea task force di esperti entro marzo in turchia e siria sisma i caschi blu italiani per salvare le opere d'arte il presidente di confindustria bonomi e fondi non spesi ora liberare 40 miliardi assegno unico più ricco l'aumento sarà doppio da febbraio rivalutati l'importo e le soglie e per alcune famiglie un incremento a due cifre l'intervento del ministro lavoro agile la conquista della proroga per i fragili e adesso passiamo al quotidiano del sud il quotidiano diretto da roberto napoletano l'europa dei nani che si credono giganti siccome siamo tornati alla situazione di sempre è bene che la Meloni eviti passi falsi su temi ideologici e si concentri nel lungo termine sull'obiettivo strategico di Draghi che coincide con l'interesse nazionale e quello europeo lasci cuocere Macron nel fuoco lento dei suoi problemi interni che si cumuleranno con la debolezza della leadership tedesca di Schutz nel frattempo però non presti il fianco a critiche e ritardi sui balneari ed intorni agendo con la stessa determinazione mostrata nella liberalizzazione dei servizi pubblici locali si usino le antenne di fitto che segnalano per tempo quando il mare si sta alzando e la barca può vacillare e soprattutto si capitalizzi la flessibilità nell'uso dei fondi europei per cambiare il paese e spingere l'Europa a tornare a fare nuovo debito comune il ritorno dell'asse Parigi-Berlin spegne il sogno di una politica europea il peso dell'assenza di Mario Draghi consiglio europeo fra Italia e Francia riemergono antiche ruggini e ancora l'esodo è costato 14 miliardi in 10 anni i giovani medici in fuga dal sud mille all'anno verso nord e estero sudismi come fermare la desertificazione le informazioni che sono state diffusi dall'istat sulle migrazioni interne internazionali della popolazione residente per l'anno 2021 disegnano il vero paese e la desertificazione del mezzogiorno e con quest'ultimo quotidiano chiudiamo la nostra rassegna di oggi vi ringrazio per l'attenzione vi auguro buon proseguimento di giornata